È un fine settimana di fuoco, quello annunciato dal bollettino del Ministero della Salute. L'Italia è nella morsa dell'anticiclone africano e il caldo non darà tregua ancora per qualche giorno. Bollino Rosso, sabato e domenica, in 14 città. Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. Con i venti che soffiano dal Marocco e dall'Algeria, i termometri arriveranno anche a 40 gradi. Nel cuore della Sardegna potrebbero sfiorare addirittura i 45, ma il caldo soffocante ha le ore contate. Dalla giornata di domenica, dalla tarda mattinata, prima le regioni settentrionali e poi via via le regioni centrali cominceranno ad essere interessate da una veloce perturbazione atlantica che apporterà una decisa diminuzione della temperatura. La diminuzione consisterà anche di 3, 4 e localmente 5 gradi, all'inizio dalla pianura padana, dalle pianure del versante tirrenico e poi dall'Unedi su tutte le altre regioni. Nelle città, questa è Roma, già non si respira. L'asfalto brucia sotto i piedi e il sole cuoce sulla testa. Il sollievo arriva solo dalle fontane. Napoli e Reggio Calabria sono le uniche due città che il Ministero della Salute segna con Bollino Verde. L'estate è arrivata e passato questo weekend si farà sentire ancora.